Firmato dal sindaco di Cremona il decreto sui nuovi incarichi degli assessori del comune cittadino, la specifica arriva dalla giunta stessa, non si tratta di rimpasto o waltzer di deleghe ma di un riassetto necessario per rispondere alle nuove sfide. Il decreto traccia i nuovi campi d'azione degli amministratori, il vice sindaco assessore allo sviluppo all'istruzione Maura Ruggeri si occuperà anche di università e ricerca, finora in capo a sindaco in coerenza con le altre deleghe legate alle politiche educative e al lavoro e allo sviluppo. All'assessore alla città vivibile e rigenerazione urbana Barbara Manfredini va allo sportello unico alle imprese, finora attribuito all'assessore Virgilio. All'assessore alla trasparenza e vivibilità sociale Rosita Viola, in aggiunta ai settori a lei già affidati, passa la competenza sui quartieri, prima in capo all'assessore Barbara Manfredini, mentre prosegue la costituzione di un nuovo staff e quartieri e periferie con la polizia locale e l'assessore Manfredini protagonista. Sempre alla Viola vanno poi i servizi cimiteriali, già in capo all'assessore Alessia Manfredini, non autosufficienza e piano locale anziani con l'azienda speciale comunale Cremona Solidale, prima di competenza dell'assessore al welfare Mauro Plate e per finire anche i servizi statistici, prima in capo all'assessore alle risorse, all'innovazione e alla digitalizzazione Maurizio Manzi. All'assessore al welfare di comunità, servizio alle famiglie e alla persona Mauro Plate, in termini di socio sanitario, oltre alla competenza sull'azienda speciale consortile del distretto sociale cremonese, viene ridefinita la delega dei rapporti con le nuove istituzioni della riforma sanitaria, cioè l'Agenzia di tutela della salute Valpadana e l'azienda socio sanitaria territoriale. Per quanto riguarda l'assessore al territorio, all'area vasta e alla casa Andrea Virgilio, vengono specificate le deleghe della pianificazione territoriale, del piano manutenzione edifici, finore di competenza dell'assessore Alessia Manfredini, nell'ottica di una competenza complessiva sulla cura del patrimonio pubblico. All'assessore all'ambiente e alla mobilità, l'essia Manfredini, infine la delega all'economia circolare, in linea con le politiche sui rifiuti e con i piani industriali delle partecipate e sulle infrastrutture, viabilità, sottosuolo e illuminazione pubblica. Riformulate poi le deleghe dell'Organizzazione Risorse Umane in capo all'assessore alle risorse all'innovazione e digitalizzazione Maurizio Manzi e in capo al sindaco Gianluca Galimberti, del distretto culturale, progetto di fondazione Cariplo di innovazione e sviluppo già della provincia e ripreso dal comune di Cremona come capofila.